Istituzioni in campo per salvare la cooperativa Terra Uomini Ambiente su iniziativa della provincia è stato convocato oggi un incontro nella sede dell'Unione dei Comuni, obiettivo salvare il maggior numero di posti di lavoro. Preso con 10 chili di droga nascosti nella valigia, i carabinieri hanno arrestato Marocchino di 34 anni sorpreso con un carico di hashish destinato allo spazio nella pineta di Viareggio. Rivoluzione, passaggi a livello nella piana di Lucca con il raddoppio della linea ferroviaria ne saranno eliminati 14. La nuova Cop verso l'apertura lavori a pieno ritmo per il completamento del nuovo supermercato di San Filippo, un via di Tiglio la cui apertura è fissata per lunedì prossimo. Lo sport di calcio, caos lucchesi e dopo le divisioni di Baldini la società rossonera sta cercando di capire come uscire dall'impasso questa sera su Noi TV, puntata speciale di Toscana Replay alle ore 21 in diretta, poi replica a Luna. Perin aprirà la 68esima Viareggio Cup, presentazione ufficiale della manifestazione che prenderà il via lunedì 14 marzo allo Stadio dei Pini. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che apriamo con una notizia giunta nel tardo pomeriggio in redazione, una tragedia avvenuta a Castiglione Garfagnana. Un uomo di 62 anni, residente a Villa Colemandina, Franco Pieroni, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un albero. Il fatto è accaduto in un terreno di proprietà dell'uomo in località crociale nel comune di Castiglione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 62enne stava abbattendo un albero con un verricello quando la pianta lo ha travolto colpendolo alla testa, inutili i soccorsi sul posto per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri. Rimaniamo in Garfagnana per parlare del futuro della cooperativa Terra Uomini Ambiente. Questa mattina un vertice, vediamo che cosa è emerso nel servizio di Egidio Conca. Istituzioni locali e parlamentari compatti per il salvataggio della cooperativa Terra Uomini Ambiente, in difficoltà economiche e di lavoro. Su iniziativa della provincia è stato convocato un incontro nella sede dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Il presidente della Coop, Nazareno Belleggia, ha illustrato il piano di risanamento che prevede tra l'altro una diminuzione degli occupati. I parlamentari si sono impegnati a coinvolgere il Ministero dello Sviluppo Economico affinché vengano garantiti a tutti i lavoratori gli ammortizzatori sociali. Noi saremo al fianco dei lavoratori e dei soci per aiutare a velocizzare tutti quegli strumenti, anche e soprattutto di ammortizzatori sociali, le misure che devono essere messe a punto per sostenere in questa fase difficile i nostri lavoratori, per essere vicini a questa cooperativa che ha dato tanto al territorio. Il presidente della provincia, Luca Menesini, si è detto disponibile a gestire il coordinamento tra i vari livelli istituzionali, insieme con le due unioni dei comuni, con l'obiettivo di puntare non solo al salvataggio, ma anche al rilancio della cooperativa. La provincia CE ha istituito questo incontro insieme alle unioni dei comuni, proprio perché la dimensione dell'azienda, la professionalità dell'azienda, la ricaduta dell'occupazione dell'azienda non riguarda soltanto il territorio della Garfagnana e della Valle del Serchi, ma va ben oltre. Noi abbiamo preso atto oggi dei problemi dell'azienda che ha preparato un piano e a livello provinciale cercheremo di monitorare e supportare proprio questo piano nelle sue fasi di attuazione. Le istituzioni locali hanno giudicato positivamente il piano di ristrutturazione, per il quale si attende un'accelerazione dell'iter nonostante alcune perplessità da parte dei sindacati. Al termine il Presidente Belleggia si è detto soddisfatto. L'importante è che ci si confronti, che ci si occupi di un problema e il problema oggi è quello di dare continuità a questa azienda, di dare risposta occupazionale a questa valle che sempre di più perde possibilità di lavoro. Credo che oggi sia stato un incontro costruttivo e che si possa continuare su questa linea. La Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di codice giallo, dunque di tipo moderato, per il rischio neve dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. Allerta che riguarda la Piana di Lucca e la Valle del Serchio. Domani sono previste infatti nevicate a quote intorno ai 600-700 metri sull'Appennino Tosco-Emiliano, ma anche localmente e temporaneamente fino a 400-500 metri. A Viareggio, dove i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino che nascondeva in una valigia 10 chili di hashish. I dettagli nel servizio di Federico Conti. Aveva con sé 10 chili di hashish destinati alla pineta riponente di Viareggio, che una volta sul mercato gli avrebbero fruttato circa 50.000 euro, ma è finito nella rete dei carabinieri di Lido di Camaiore, che lo hanno individuato e arrestato. È il bilancio dell'operazione senza sosta, condotta dal nucleo operativo e radiomobile di Viareggio, che da settimane passa al setaccio il parco cittadino. Lo spacciatore, un marocchino di 34 anni, è stato preso sabato pomeriggio in via Boccella a Lido. L'uomo stava caricando un trolley a bordo di un'auto. Alla vista dei militari si è dato la fuga, scavalcando le recinzioni delle villette della zona per seminare i carabinieri. È stato un ragazzino a passeggio con il nonno a cedere prontamente la bici ad uno dei militari, che sulla due ruote è riuscito ad acciuffare il pusher. Con sé aveva 10 panetti di fumo nascosti nella valigia, ma anche denaro contante e due cellulari utilizzati per contattare la clientela. Un'operazione di rilievo che ha permesso di bloccare una delle fonti principali di approvvigionamento per lo spaccio al minuto che avviene all'interno della bineta di Ponente. Rimane fondamentale l'arte di improvvisazione dei militari sul terreno, che riescono in pochi istanti a trovare sempre la soluzione pidonea per portare l'obiettivo a compimento. Adesso è caccia ai complici per risalire al fornitore, sicuramente fuori dai confini versilesi. Si fa largo l'ipotesi che il corriere arrestato, come altri colleghi, si servisse dei giardini di alcune ville abbandonate o isolate per nascondere la sostanza lontano da occhi indiscreti, per poi consegnarla agli spacciatori al minuto della pineta. E adesso torniamo a parlare del progetto del raddoppio della linea ferroviaria tra Lucca e Pistoia, perché questo raddoppio comporterà anche l'eliminazione di ben 14 passaggi a livelli. Il progetto del raddoppio della linea ferroviaria tra Lucca e Pistoia ripropone sui tavoli delle amministrazioni comunali la problematica dell'eliminazione dei passaggi a livello. Dovranno essere 14 gli attraversamenti ferroviari da eliminare nei comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Alto Pascio e Monte Carlo. Di questi 14, 9 insistono sul territorio del comune di Capannori, di cui 5 concentrati nella zona di Pieve e San Paolo. Il progetto dell'amministrazione comunale vede la soppressione di 5 passaggi a livello, tra cui via del Corazza, via Barsocchini, via dei Malfatti, via delle Volpi, via della Chiesa e via del Quagliodromo, e la realizzazione di 4 sottopassi, 2 camionabili e 2 a servizio della viabilità ordinaria. Quindi in questo caso appunto pensiamo a via del Casalino come viabilità interna, pensiamo a Santa Margherita in un'ottica di viabilità interna, mentre pensiamo a quello della cosiddetta Variantina e Tassignano nella zona della Chiesa, anche come camionabile che quindi arriva fino al Pippe di Carraia, come pure anche camionabile quello di Pieve e San Paolo. L'intervento più complesso sulla linea è però quello della via romana ad Alto Pascio, questione annosa che forse in questa fase e con i finanziamenti a disposizione potrebbe trovare una soluzione, per la quale però il primo cittadino Maurizio Marchetti ha intenzione di coinvolgere anche la cittadinanza, per individuare un percorso condiviso vista la complessità urbanistica della zona. Il mio intento è quello di andare a aprire un confronto prima di tutto con la cittadinanza, proponendo una o più soluzioni, ma direi più soluzioni, e per andare in qualche maniera a una sorta di decisione insieme ai cittadini, insieme alla popolazione, insieme a coloro che abitano, insieme a coloro che principalmente transitano, e con questo poi a sua volta andare al tavolo insieme a Ferrovie dello Stato per definire la progettazione di questa eliminazione del passaggio a livello. Il primo cittadino di Vagli Sotto, Mario Puglia, sarà l'ospite della prossima puntata di Diretta Sindaco, in onda su noi TV, questo mercoledì alle ore 21, come sempre potete se volete intervenire con i vostri sms per domande e commenti. Oggi nella chiesa di San Frediano i funerali dell'onorevole Domenico Maselli, morto lo scorso venerdì a 82 anni. Rappresentanti delle istituzioni e tanti semplici cittadini hanno reso omaggio all'onorevole Domenico Maselli per il rito funebre ufficiato nella Basilica di San Frediano a Lucca. Ad attendere all'arrivo del ferretro c'erano la moglie Iole e i figli Andrea Valdo e Divana. Ad ufficiare la funzione e a ricordare la figura di Maselli è stato Paolo Ricca, teologo della chiesa valdese, chiesa della quale Maselli era pastore emerito. Ad assistere alla cerimonia è intervenuto anche l'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani. Maselli venne eletto deputato una prima volta nelle elezioni del 1994, come rappresentante di una coalizione tra l'allora Partito Democratico della Sinistra, Verdi e Cristiano Sociali. Due anni dopo venne candidato di nuovo con l'Ulivo, in contrapposizione ad Altero Matteoli. Vince Maselli che rimase in Parlamento fino al 2001, quando poi decise di non ricandidarsi. Parliamo del nuovo supermercato Coop che aprirà lunedì prossimo a San Filippo in via di Tiglio, perché in questi giorni vengono completati anche i lavori alla viabilità che porterà il nuovo supermercato e dunque anche nella zona intorno all'ospedale. Lavori a pieno ritmo per il completamento del nuovo supermercato Coop di San Filippo in via di Tiglio, la cui apertura è stata fissata per lunedì 14 marzo. Il nuovo punto vendita avrà una superficie di 2000 metri quadrati e vi lavoreranno 52 addetti. Contemporaneamente l'apertura del nuovo sito chiuderà i battenti, quello sulla via Romana. Su via Lippi Francesconi, la strada che porta al San Luca, è praticamente completato il parcheggio gratuito da 40 posti che sarà a servizio dell'ospedale, con i relativi accessi. Ma proprio su questo ha lanciato l'allarma il responsabile del sindacato Will Funzione Pubblica, Pietro Casciani. Sembra che entrata ed uscita non colleghino la strada solo al parcheggio, ma fungano anche da accesso secondario al supermercato. Questo significa consentire il passaggio di almeno parte del traffico legato alla Coop sul tratto di strada è immediatamente antecedente il pronto soccorso, dove ambulanze ed automediche devono avere un immediato via libera. Abbiamo sentito sull'argomento l'assessore comunale Celestino Marchini, secondo il quale è vero che qualcuno potrebbe passare da via Lippi Francesconi per andare alla Coop, ma si tratterà di poche auto perché le entrate principali del supermercato saranno comunque aperte sulla via di Tiglio. Andiamo a Castelnuovo, Garfagnana, per mostrarvi lo scarico abusivo di qualche ditta edile che dopo aver smantellato un sottotetto o qualcosa di genere ha pensato male di gettare questi rifiuti in una strada privata nei pressi di Ruscello, nel comune appunto di Castelnuovo. Questa è la strada che porta in due piccole località, a Marigliana Bassa, pochi metri fuori dalla provinciale di Monte Perpoli. Gli abitanti sono molto arrabbiati e indignati dell'accaduto, ci hanno segnalato il fatto e hanno provveduto a fare denuncia a Polizia Municipale e Carabinieri. È tutto per la prima parte del Tg, adesso una breve pausa e poi ci ritroviamo con la pagina sportiva Il primo piano, le vicende della Lucchese.